Allora, Vermentino è un topo di pioniere, vero? E anche su questo rosato, voi sapete che sto scrivendo un dito sui rosei, vero? Esce a Pasqua, è uno sui vini bianchi che esce a quest'estate, quindi prenotateli, non è che andrà da ruba, ma insomma, prima, ma comunque saranno, anzi due capitoli, della saga del manuale di conversazione, dopo il manuale di conversazione su champagne, che è arrivato alla terza di stampa, il manuale di conversazione sui vini rossi, che si è ucciso l'anno scorso e ora uscirà questa doppietta bianchi e rosati, in tempo per l'aniello di Pasqua, l'orgete, e il bianco invece per l'estate. E, scusate una piccola curiosità progresso, tornavamo appunto al rosato e al Vermentino e quindi l'idea venuta a mente perché il rosato appunto è guardato sul Sirà, che è uno dei due che viene andato tantissimo in Francia per fare i rosati, soprattutto la zona del Rodano, la zona dell'Hermitage, ma anche la Chatea Nerve Papp, la zona della Francia del Sud, mentre in Provenza, sapete, ci sono Grenache, Censol, in parte anche Siracque, il Brenna è una matrice, però di sicuro questo è un rosato che guarda più a spireni del Rodano. Ma cominciamo dal Vermentino, dunque, il Vermentino sapete che è uno dei grandissimi successi dell'enologia toscana, quindi per zero a cento si è passati da produrre pochissime bottine quasi tutte sulle acquane, sulle zone, diciamo, a coi di luni. Alla fine ha provato il Maremma, il Maremma ha avuto un grandissimo successo, c'è stato due o tre aziende che hanno avvalcato un po' l'onda, e alla fine, perché altrimenti per bene i vini che fossero sfruttati, sapidi, un po' speziati, ma anche dolci e accattivanti, in Toscana bisognava andare in altre regioni, perché la Vernaccia, per quanto buonissima, è un vino più particolare, un po' più magro, più asciutto, non adatto a tutti, e quindi io l'ho definito, questo inverno ho fatto l'intervista, l'ho definita un litigno nerd, la Vernaccia, che io pensavo fare un complimento ai produttori sui arrabbiati, invece da qui punto di vista è un complimento, nel senso, diciamo, un vino hipster, nerd, che va bene volete, nel senso che è un po' concettuale, che bisogna un po' capire, ma il vermentino è molto più comunicativo, è molto più immediato, diretto, soprattutto il maremma della zona di Bouldering, dove acquisisce delle sensazioni molto safide, aromatiche, marine, sensazioni che ricordano la salvia, il rosmarino, il timo, quasi note un po' balsamiche, poi che vanno ad aggiungersi note di musco bianco, queste note molto particolari, stuzzicanti, che vanno a unirsi a quella nota appena trumata, a quella dolcezza appena in maniglia, a quella nota di arancio o un po' di albicocca, ci sono queste note molto piacevoli, che si trovano spesso in vermentini, quelli sulla costa, e non in maremma, perché in maremma sono un po' più grassi, un po' più massicci, hanno veramente questa levità, questa dolcezza, è difficile che stanchino, ecco, gli danno proprio questa sensazione. Quando poi andiamo a bere, sentite proprio la sensazione, in bocca in realtà sono molto leggeri, non hanno una buona concentrazione, questo ma, in questo modo, per giù bene, leggero, chiude leggermente salato, un tocco di mandorla, ma è un vino che se ne beve, ora si sta un po' scattando nel bicchiere, ma immaginate lo bello fresco, sulle rive del mare, anche sta domenica, una giornatina così, anche non c'è bisogno di aspettare l'estate, addirittura, si può fare di inverno, aveva appena messo via l'isci, lo so, però è... Facci segnare, facci segnare. Ecco, via, immaginiamoci, giù ciro da un bellone frota. Ecco, quindi, questo vermentino nasce in quel contesto, vi faccio una cosa, però, che questo vermentino è il 2017, e uno dice, ma come, ormai non è il 2018? Ecco, quando lo avete nel bicchiere e ve lo assaggiate, vi rendete conto che questo vino, anzi, immaginatevelo un anno fa, cioè, a livello di sensazione, sarebbe stato molto più aggurmato, molto più acido, però anche molto meno gradevole. Oggi, invece, ha un equilibrio tra i suoi componenti notevole e si beve molto un linchè. In abbinamento, per me, hanno fatto questa brutta salata, potremmo essere il cilberone, quindi è veramente... serve tutte cose abbastanza anche con una buona persistenza, però l'anno in più gli ha dato queste note più speziate, e altrimenti, veramente, l'agruma, l'acidità e anche note un pochino più immediatamente, banalmente fruttate, prendevano il sopravvento. In me, se non lasciato distendere, riesce veramente a tirar fuori questo lato sacrio e elegante, che è quello che, in questo momento, nei vini bianchi, piace tantissimo. E quindi, ecco, per un tiro che, comunque, già...